Pillola motivazionale Non mi stancherò mai di ripeterlo, l'autostima è l'energia motivante che ti permette di andare avanti nella vita Nutrila ogni giorno, leggendo o pensando a cose belle Nutrila ogni giorno, ripetendoti che tu sei importante e meriti una vita felice Ricorda, una scarsa autostima ti rende ancora più vulnerabile ai problemi della tua vita Reagisci, è inutile come merita Tu sei importante e meriti una vita felice Ripetitelo tutti i giorni